Siamo pronti per la sigla del talent! Alessio De Carolis, il mio nipotino acquisito, Mr. Festival Italia in Musica, chi abbiamo in giuria? Buonasera a tutti, questa sera la giuria è composta da Vilma Goic, presidente di giuria. Enrico Ciacci, Bruno Minidi e Claudio Sangiastro. Grazie, ricordiamo che è la seconda semifinale sezione cover.